Molto bene, Cesare. Passerò da quella finestra. Voglio la mela! Faccio male? Dammi la mela! È mia, non tua! Voglio la mela! Saggia decisione, sorellina. Prequiescati in pace. Io so. So dove sta andando quel bastardo. A San Pietro, al padiglione del cortile. Grazie. Assasino! Diamine. Mi occuperò più tardi di te. Vai! Ma? 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 Molto bene, Cesare. Passerò da quella finestra. Voglio la mela! Ti faccio male? Dammi la mela! È mia! Saggia decisione, sorellina. Requiescati in pace. Io so. So dove sta andando quel bastardo. A San Pietro, al padiglione nel cortile. Grazie. Assasino! Diamine. Mi occuperò più tardi di te. A San Pietro, a San Pietro, a San Pietro, a San Pietro. Fermaccio sta asseminando. Presto, ragazzi! Lo vedo, laggiù! Diavolo, è troppo svelto! Eccolo! Lì, lì! Adesso! Adesso sei spasciato! Prendetelo! Sono con te, il bastardo! Sono con... Sono qui con te! Cosa credi di fare? Cosa credi di fare? Eccolo! Ora, uccidete! Via! Qualcosa... Non sfuggerai stavolta. Via! Lo vedo! Laggiù! Un altro scherzo della sorda! Perché avrà? Lasciami! Presto, sta scappando! Ti farò a fetti! Ti farò a fetti! Ti farò a fetti! Grazie a tutti.